Un capannone di amianto nel cuore del parco dei Camaldoli. Si potrebbe definire un vero e proprio scempio ecologico, quello che si sta consumando nell'aria, a ridosso della città. Quella che dovrebbe essere un oasi di pace di circa un milione di metri quadrati sta diventando giorno dopo giorno, a causa di un capannone inquinante, una zona ad alta pericolosità per la salute soprattutto di anziani e bambini e di tutti i residenti. Insomma, quello che dovrebbe essere un parco è diventato un'area pericolosa a cielo aperto. Appare evidente agli occhi dei visitatori la presenza di una struttura di dubbia natura, accanto alla strada di accesso campeggiata da un edificio di amianto di colore grigio. Lavori in corso continui nella zona, infatti, si sta abbattendo una struttura ma senza nessuna protezione o sicurezza. Addirittura in questo cantiere a cielo aperto calcinacce e macerie sono cadute recando danni e fori al capannone. Fori pericolosissimi che hanno sprigionato molecole tossiche di amianto. Ma non è finita qui, accanto al capannone si vede chiaramente un altro edificio tinteggiato alla buona che sotto il verde della pittura malandata fa trapelare ancora il grigio dell'amianto. Insomma, c'è bisogno che le autorità competenti e la magistratura si diano una mossa per evitare che questa bomba ecologica possa scoppiare in tutta la sua pericolosità.